Scontro diretto per la salvezza, quello tra Acqua e Sapone e Nerostellati, due squadre fuori momentaneamente dai play-out, ma che non vogliono essere risucchiate nel vortice retrocessione. Prima del fischio iniziale, minuto di silenzio concesso per la scomparsa prematura di un cugino del capitano verde-oro di Biase. Momento davvero toccante che apre la giornata sportiva di Montesilvano. 100 secondi e prima palla-gol per la squadra di Del Gallo, Potacqui lancia perfettamente Petito che col sinistro va in diagonale, deve superarsi il classe 2001 Amo, anche se la deviazione non verrà segnalata da De Gregorio della sezione di Chieti. Rispondono gli ospiti con Del Gizzi che è il più lesto di tutti, ma spedisce a lato. Episodio d'Amo Viola al ventesimo quando Trento viene spinto in aria, ma si gioca. Primo tempo a tinte verde-oro, Petito ci riprova, Amo copre bene sul primo palo. Dalla bandierina svettaricci su tutti, manca però il bersaglio grosso. Sempre Petito, questa volta assistito da Evangelista, col tacco, non regala la gioia della rete. Dall'altra parte errore in disimpegno di Zippilli, pendenza, vada Onuaci che deve fare i conti con Alceo Palena. Urlo del gol strozzato poco prima dell'intervallo da Geriamo, prodigioso a togliere dal sette il tiro cross di Potacqui. Tene gli spogliatoi e ripresa che inizia sotto lo stesso copione. Potacqui per Trento, ancora Amo, riflesso felino e palla in angolo. Al dodicesimo 0-1 annullato a pendenza per una posizione di fuori gioco. Il calcio è spietato e sul ribaltamento di fronte, elastico di Trento che si procura una punizione dal limite. Batte lo stesso Undici, sbuca la zampata di Fabio Ricci. 1-0 Acqua e Sapone e terzo centro per il difensore col vizio del gol. Partita che stranamente dopo il vantaggio locale non regalerà sussulti clamorosi. Al trentacinquesimo trema la squadra di Del Gallo. Nasce tutto da un rimpallo tra Balzano e Di Biase. Moscone ne approfitta e si accentra. Va verticalmente da bomber pendenza. Palena gli sbara la strada sigillando col lucchetto questi tre punti. Torna a vincere l'Acqua e Sapone in un mese di dicembre che non era stato così positivo. Dopo due vittorie e cinque risultati utili consecutivi, invece i nerostellati si arrendono ma guardano comunque con fiducia al proseguo del campionato. Da Antonio Di Berardino, buone feste. Beh, è una partita strana. Grandi occasioni sia dall'una che dall'altra squadra non ne abbiamo avute, insomma. Noi su questi campi non realizziamo grosse partite perché traiettori diverse, la palla non rimbalza, la palla è molto bassa e abbiamo avuto un po' di difficoltà anche nel costruire azioni che siamo soliti fare. Purtroppo poi c'è stata quella punizione dove hanno creato quel gol che mi sembra anche un po' viziato al fuorigioco. Comunque non possiamo fare altro che ricominciare e ricostruire con determinazione per la prossima partita, ricostruire un po' il morale anche ai ragazzi. Facciamo un buon Natale tutti insieme, considerando anche che le altre squadre non sono andate oltre la nostra posizione. e vedremo dopo. Mister De Gallo, un bel ritorno alla vittoria con una prestazione anche convincente. Beh, sì, era importante oggi vincere e allontanarci ancora di più dalle zone basse. Abbiamo fatto una prestazione buona, nel primo tempo potevamo concludere meglio. Siamo arrivati tante volte lì per lì per fare il tiro in porta, l'azione decisiva, però poi ci è mancato sempre quel piglio per fare gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio, abbiamo capitalizzato con il gol di Ricci e niente, poi siamo riusciti a mantenere bene la partita. Il risultato penso che sia giusto, ma ripeto, contavano soprattutto i tre punti. Ma volevamo dedicare la vittoria anche al nostro capitano, che ha avuto questo lutto importante, ci dispiace tanto, e abbiamo quindi manifestato ancora di più la nostra compattezza verso un uomo così rappresentativo e importante per noi.